Musica E' terminato oggi a San Fidenzio il laboratorio Credere Domani, promosso dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Verona e dell'Emilia sul tema giovani e spiritualità. Sabato pomeriggio inizierà in cattedrale con la Messa delle 16 dedicata da malati e anziani con unzone degli infermi, la novena della Madonna del Popolo che anche quest'anno coinvolgerà diverse parrocchie del centro città. Buffera politica in questi giorni sullo Ius Scuole per dare la cittadinanza ai ragazzi figli di stranieri al termine di un ciclo scolastico. Buonasera Ben, ritrovati dal Tg di Telepace. E' terminato oggi a San Fidenzio il laboratorio Credere Domani, promosso dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Verona e dell'Emilia sul tema giovani e spiritualità. Vediamo. E' terminato a San Fidenzio il laboratorio sui giovani per i responsabili delle diocesi e le persone impegnate nella pastorale giovanile, oltre alle associazioni come Azione Cattolica e Scout. Si riparte confermati nell'idea che questa prospettiva di una Chiesa giovane è possibile. direi che questo l'hanno detto sia i giovani che hanno partecipato, come si sono autodefiniti, come consulenti esterni, e ci hanno dato l'idea della forza, della loro aspettativa, ma anche della loro energia e delle loro potenzialità. Il laboratorio promosso dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Verona e dell'Emilia ha approfondito il rapporto giovani e spiritualità con la presenza di alcune voci giovani esterne, come quella di Emanuele, che viene da Torino. Mi hanno portato la consapevolezza che ci sia una parte del mondo degli adulti e più in generale del mondo della Chiesa, di una consapevolezza forte della importanza di un connubio tra giovani e adulti. Queste giornate di dialogo e confronto rappresentano la prima tappa di un percorso triennale che proseguirà l'anno prossimo focalizzandosi sui valori dei giovani. Questa è la grande sfida che vogliamo affrontare, ripartire con i giovani. Abbiamo fatto tante cose per i giovani, immaginiamo che da parte nostra ci sia un pieno e dall'altro un vuoto, o tante fragilità, vogliamo cambiare atteggiamento perché sentiamo che sono portatori di una novità e di una voce dello spirito e quindi più che per loro, con loro. Gli incontri sono stati guidati principalmente da Paola Bignardi, coautrice dell'indagine fatta con Rita Bicchi, pubblicata nel saggio Cerco, dunque credo, i giovani e una nuova spiritualità. Ad affiancarla, Sor Grazia Papola, Lucia Avantini e Don Fabrizio Rinaldi. I giovani si allontanano sempre di più dalla Chiesa, di fatto lo ha dimostrato la sua ricerca. Sì, si allontanano sempre di più da questa Chiesa, non dalla Chiesa, cioè dal modo con cui oggi la Chiesa interpreta il cristianesimo, ritenendo questo modo come troppo lontano dalla sensibilità di oggi. Loro credono e chiedono in un cristianesimo contemporaneo. Difatti, abbandonando la Chiesa, molti di loro non abbandonano la fede, ma sono alla ricerca di una fede che sia una fede di oggi, che stia insieme con la loro sensibilità di oggi. Inizierà sabato pomeriggio in cattedrale con la messa delle sedici, dedicata in particolare agli ammalati e agli anziani e con unzione degli infermi, la novena alla Madonna del Popolo, che anche quest'anno coinvolgerà diverse parrocchie del centro città. Vediamo. La novena alla Madonna del Popolo, tradizionale appuntamento di fine estate della Chiesa veronese, torna quest'anno guardando al giubileo, che si aprirà a fine anno. Pellegrini di speranza, questo è il tema che sarà approfondito da varie parrocchie veronesi, di Santo Stefano, San Zeno, Santa Anastasia, San Fermo, Filippini, San Giorgio. Sarà un cammino di preghiera per giungere al 24 dicembre, giorno in cui inizierà il giubileo, con nel cuore già il desiderio di vivere questo anno santo, nella speranza. Mi sembra che nel nostro tempo, dove la comunicazione è tanta, immagini, complessità di vita, ciò che manca purtroppo in tutte le generazioni, anche nei giovani, che dovrebbero essere la fonte della speranza, è proprio questa virtù. Inserite nella novena la messa di domenica alle 11, per i 50 anni di quattro canonici, e la celebrazione con sei ordinazioni presbiterali di sabato 7 settembre, alle ore 16. I veronesi, a livello secolare, hanno sempre amato questa immagine della Madonna, e anche se l'attuale immagine è soltanto, ha soltanto un secolo, comunque in questo luogo, la Cappella Malaspina, tantissima gente ogni giorno, al di là della messa, ma soprattutto personalmente, si recca, prega, lascia un lumino, vedo che qualcuno piange, qualcuno ringrazia, qualcuno chiede aiuto, direi che è il luogo accanto alla Cappella del Tabernacolo, con la presenza eucaristica, però questo è il Cappella della mamma, della famiglia, del momento in cui tu devi essere abbracciato per riprendere la vita. Succede questo per i veronesi, ma la cosa bella è che durante l'estate, che aumenta a dismisura il numero dei turisti, è facile, quando entro dentro in chiesa, trovare che anche dei turisti, invece di essere soltanto affannati, di fotografare, di guardare in giro, si fermano per pregare. Ricordo che Telepace trasmetterà in diretta, sabato e domenica, il Vespro alle ore 18 e la Messa delle 18.30, poi da lunedì tutti i giorni, la Messa alle 18.30 e il Rosario alle 19.15. Tg di Telepace, quindi la prossima settimana, andrà in onda alle 19.45. Le donne affette da alterazioni della tiroide potranno vivere la gravidanza con maggiore serenità, grazie a terapie appropriate, scongiurando il rischio di effetti avversi per il feto. Per aiutare queste pazienti, dal 2020 attivo all'ospedale Magalini di Villa Franca di Verona, uno dei presidi ospedalieri dell'azienda ULS 9 Scaligera, un ambulatorio integrato dei disordini tiroidei in gravidanza svolto a cadenza mensile da un endocrinologo e un ginecologo. Dal 2022 al 2023 è stato registrato un aumento di accessi del 32,5%. Un'altra notizia riguarda un'iniziativa per sabato 31 agosto sul percorso delle fortificazioni si corre o si cammina ripercorrendo la storia di Verona con Asics Trail delle Mura, il trail urbano di 17 chilometri e una non competitiva di 8 chilometri, la partenza da Piazza San Zeno alle 20 e 30. È sempre acceso il dibattito sull'esposizione o meno del corpo femminile in un'epoca dove vengono meno i limiti del pudore e in cui c'è un grande sforzo culturale per tutelare le donne. Ma cosa comunichiamo con il corpo? Il maschile e il femminile reagiscono in modo diverso come ci spiega la psicoterapeuta Mariolina Ceriotti-Migliarese. Bisogna prima di tutto cercare di dare una lettura corretta di ciò che accade perché se non leggiamo correttamente non possiamo nemmeno, come dire, correggere il tiro. Allora, mi sembra che si stia un po' perdendo l'idea del valore comunicativo del corpo che è sempre stato il più potente strumento comunicativo e il modo col quale ci presentiamo agli altri, quello che gli altri per prima cosa vedono di noi. Dobbiamo quindi avere consapevolezza del valore comunicativo della nostra persona, del modo in cui ci presentiamo, siamo vestiti, sorridiamo, non sorridiamo, di tutto il modo nel quale ci presentiamo. Però quando si parla di comunicazione bisogna in qualche modo capire che la comunicazione è sempre rivolta a qualcuno, che c'è quindi un altro dall'altra parte. E secondo me oggi questo è andato molto perduto. Credo che quello che è andato perduto è proprio la capacità di leggere, la legittimità dell'altro, di interpretare i segnali secondo il proprio codice. e il codice per esempio del maschile e del femminile in relazione allo sguardo sono codici molto differenti. Il codice femminile sullo sguardo è la sensibilità all'essere guardate, quindi il desiderio di essere viste, di essere considerate, di essere viste belle, di essere anche capaci di attirare lo sguardo maschile. Il codice dello sguardo maschile è legato invece al desiderio, all'attrazione, ciò che attiva l'uomo da un punto di vista sessuale, per esempio, passa molto attraverso lo sguardo. Allora io credo che la maggior parte di queste ragazze che si espongono anche esageratamente, non si rendono conto, non lo fanno con l'intenzione dichiarata di attirare uno sguardo di desiderio sessuale, ma non si rendono conto di ciò che sta capitando, non si rendono conto e vorrebbero che lo sguardo maschile fosse come lo sguardo femminile. Buffa era politica in questi giorni sullo ius scole per dare la cittadinanza ai ragazzi figli di stranieri al termine di un ciclo di studi. Di questo ha parlato nell'editoriale di oggi Don Bruno Fasani. Vediamo. Sentiamo grandi polemiche di questo tempo su quello che è stato chiamato lo ius scole, cioè il diritto di concedere la cittadinanza italiana a cui ragazzi nati in Italia figli di genitori stranieri che hanno frequentato un regolare corso di studi. Sappiamo che a questa cittadinanza si oppone fortemente la Lega adducendo che l'Italia già concede troppi certificati di cittadinanza agli stranieri e ha portato i numeri 214.000 nel 2022. Sappiamo che questi sono i numeri algebrici, poi i numeri vanno interpretati perché dietro ci sono le persone. E allora scopriamo che l'Italia ha dato sì molti più certificati degli altri paesi europei, ma li ha dati ai residenti dei paesi d'Europa, a quelli che non fanno ancora parte della comunità e a cittadini del Sud America discendenti di vecchi immigrati europei. Quindi meno di un terzo dei certificati di cittadinanza sono andati in realtà a queste persone che vengono da paesi disperati dove c'è la guerra, c'è la violenza e la fame. Perché dare un certificato di cittadinanza a questi ragazzi che hanno frequentato la scuola? La prima ragione è che noi abbiamo bisogno assolutamente di cittadini stranieri che diventano cittadini italiani per far fronte alle esigenze lavorative del paese. Ma io credo che il problema sia anche psicologico. Cioè nel momento in cui noi abbiamo riconosciuto la cittadinanza italiana a questi ragazzi, noi questi li abbiamo portati psicologicamente psicologicamente a sentirsi italiani. Se noi non la concediamo loro, questi continueranno ad essere stranieri, a chiudersi nelle loro tradizioni, nella loro identità straniera. Quindi io penso che davvero l'apertura alla cittadinanza sia un passo importante, sia un passo importante che però domanda agli italiani di avere il coraggio della propria identità. Non sono gli stranieri che ci rubano l'identità, ma è la nostra debolezza di identità che concede, che consente eventualmente ad altre identità di farsi largo nei nostri spazi. Grande successo ieri in un'arena da tutto esaurito per lo spettacolo Viva Vivaldi in una prima mondiale con The Four Season Immersive Concert, una coproduzione tra Fondazione Arena di Verona e Balic Wonder Studio, un evento che ha unito il potere della musica classica dal vivo e la magia di innovative immagini 3D con le quattro stagioni di Vivaldi a 300 anni dalla loro pubblicazione. Lo show multisensoriale immersivo ha avvolto il pubblico in un susseguirsi di immagini di rara bellezza che hanno avvicinato la forza della musica a quella della natura e dello scorrere del tempo con le stagioni in uno spettacolo di grande eleganza. Numerosi bis offerti dal talentuoso e appassionante violinista Giovanni Andrea Zanon, vincitore di oltre 30 concorsi nazionali e internazionali con una carriera alle spalle di collaborazione con importanti direttori d'orchestra e di partecipazione a numerosi progetti di musica da camera e dopo aver ottenuto numerose menzioni e riconoscimenti. Con questa notizia termina il nostro Tg. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie.